Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio vedere con voi lo sviluppo in serie di Taylor. Innanzitutto vediamo una piccola descrizione. Lo sviluppo in serie di Taylor di una funzione in un non punto preciso, se esiste, permette di esprimere la funzione nell'intorno di quel punto. Ovviamente la esprimeremo, tale funzione, come un polinomio con infiniti termini. Questo però sarà possibile se noi arresteremo lo sviluppo di Taylor ad un certo ordine, in modo tale che è possibile esprimere i restanti termini sotto forma di resto. Questo però lo vediamo subito con alcuni esempi, così come effettivamente ci dobbiamo comportare quando abbiamo esercizi che ci chiedono appunto di scrivere proprio lo sviluppo di Taylor e fermarci a un determinato ordine. Infatti, il primo esercizio che voglio vedere sarà di prendere questa funzione, ovvero x coseno di x, tutto fratto seno di 2x. e per questa dobbiamo appunto scrivere lo sviluppo di Taylor in x uguale 0, però ci dobbiamo fermare all'ordine 4. Come dobbiamo fare? Innanzitutto io me la vado a riscrivere per fare qualche cambio soprattutto al denominatore, ovvero questo seno di 2x io me lo posso anche scrivere come 2 per il seno di x per coseno di x, in modo tale che il numeratore e il denominatore si vada a semplificare. Quindi il risultato finale sarà proprio x fratto 2 seno di x. l'ho fatto semplicemente per far venire qualcosa di più semplice, per poi dopo appunto applicare lo sviluppo in serie di Taylor, perché in questo modo io andrò a sostituire, a sviluppare lo sviluppo di Taylor solo per il seno. Infatti, mettiamo un attimo da parte il seno di x, lo sviluppo di Taylor sarà proprio x meno x al cubo fratto 6 più x alla quinta fratto 5 fattoriale più o piccolo x alla quinta, ovvero il resto di cui vi parlavo anche prima. Questo sarà veritiero quando x però deve tendere a 0. Qui poi inoltre posso mettere la x in evidenza, quindi viene x per 1 meno x al quadrato tutto fratto 6 più x alla quarta tutto fratto 5 fattoriale più o piccolo x alla quarta, anche perché in questo modo è come se io appunto mi fermassi proprio all'ordine 4. Quindi prendo questo sviluppo di Taylor e lo vado a mettere proprio nella frazione iniziale, ovvero, ritornando al nostro esercizio, scriverò proprio x fratto 2x e mi vado a ricopiare tutto lo sviluppo, quindi 1 meno x al quadrato tutto fratto 6 più x alla quarta fratto 5 fattoriale più o piccolo x alla quarta. In questo modo vedo che numeratore e denominatore posso semplificare questa x e poi faccio un ulteriore cambio. Tutta questa io me la vado a scrivere come 1 meno t, dove la mia t corrisponde proprio a 1 fratto 6x alla seconda meno 1 fratto 5 fattoriale x alla quarta più o piccolo x alla quarta. In questo modo io questa frazione me la posso andare a scrivere come 1 fratto 2 per 1 fratto 1 meno t. In questo modo 1 fratto 1 meno t io me lo posso anche scrivere come 1 più t più t al quadrato più o piccolo di t al quadrato per t che deve tendere però a 0. quindi ritornando sempre a 1 mezzo per 1 fratto 1 meno t lo andiamo a scrivere totalmente in maniera diversa, ovvero 1 fratto 2 per 1 fratto 1 meno t io me lo andrò a scrivere come 1 mezzo. Poi 1 più, ci andiamo a prendere proprio la t, ovvero 1 sesto x al quadrato meno 1 fratto 5 fattoriale x alla quarta più o piccolo x alla quarta. Più ce lo andiamo a riscrivere ovvero 1 sesto x alla seconda meno 1 fratto 5 fattoriale x alla quarta più o piccolo di x alla quarta, tutto al quadrato più o piccolo di x alla quarta, ovvero semplicemente preso appunto 1 fratto 1 meno t, questo sviluppo che avevo scritto, e al posto della t ho sostituito appunto quello che avevo scritto precedentemente. Arrivato a questo punto vado a fare qualche calcolo per semplificare. ovvero faccio 1 mezzo per 1 più 1 fratto 6 x al quadrato meno 1 fratto 5 fattoriale x alla quarta più o piccolo di x alla quarta più 1 fratto 36 x alla quarta più o piccolo di x alla quarta. Questo quadrato era un quadrato di trinomio, però io ho preso solo il primo termine perché tutti gli altri mi venivano di grado superiore al quarto, quindi io mi fermo all'ordine 4. In questo modo faccio ulteriori calcoli e posso vedere che viene proprio 1 mezzo più 1 fratto 12 x alla seconda più 7 fratto 2 per 360 x alla quarta più o piccolo x alla quarta. In questo ho semplicemente fatto 5 fattoriale, l'ho sviluppato e ho fatto il minimo comune multiplo con questo 36. Quindi arrivato a questo punto io mi sono fermata all'ordine 4 e posso dire che appunto questo sarà proprio il risultato della funzione che avevo dato all'inizio, ovvero questo sarà proprio lo sviluppo di Taylor in x uguale 0 all'ordine 4. Proviamone ancora un altro. Allora, questa volta invece io mi vado a prendere la funzione f di x uguale ln di x più 3 e voglio lo sviluppo di Taylor di grado n per un'arbitraria funzione f, in questo caso appunto un logaritmo, in un punto x0 dove x0, ovvero proprio il punto in cui io voglio, sarà proprio 1. Primo passaggio che possiamo fare è quello di andare a studiare la funzione proprio in tale punto, ovvero f di 1 sarà proprio uguale a ln di 4, o semplicemente sostituito al posto della x proprio 1. Poi, come secondo passaggio, mi vado a fare la derivata prima della funzione, ovvero f primo di x sarà uguale a 1 fratto x più 3. Se noi poi la vogliamo studiare proprio nel punto 1, ovvero la derivata prima nel punto 1, questo sarà uguale a 1 fratto 4. Anche in questo caso andiamo a sostituire al posto della x 1, mentre ulteriore passaggio sarà la derivata seconda. La derivata seconda di tale funzione dobbiamo fare appunto la derivata di 1 fratto x più 3. Ovvero, se lo vogliamo anche scrivere diversamente, sarà la derivata di x più 3 tutto alla meno 1. In questo modo non andiamo a applicare, diciamo, la derivata del rapporto, bensì andiamo a fare la derivata di una funzione composta, dove possiamo scrivere direttamente il meno 1, me lo porto davanti, ovvero meno 1 per x più 3 tutto elevato alla meno 2 e poi si dovrebbe fare la derivata della tonda che però farà 1. Quindi sarà proprio meno x più 3 tutto alla meno 2, che se lo vogliamo appunto scrivere sempre in maniera diversa, ritornando ovviamente alle frazioni perché abbiamo questo meno 2, possiamo scrivere come meno 1 fratto x più 3 tutto al quadrato. Una volta appunto calcolata la derivata seconda me la vado sempre a studiare nel punto 1. Quindi andrò a fare meno 1 fratto 4 tutto al quadrato, ovvero verrà proprio meno 1 fratto 16. A questo punto andiamo ad applicare proprio la formula del polinomio di Taylor di ordine 2 e concentro x0 uguale 1, ovvero il punto dove io voglio studiare tale sviluppo di Taylor. Innanzitutto vi scrivo prima la formula, quella che andrò ora ad applicare. questa sarà, allora, Taylor nella funzione in x0 sarà uguale ad f nel punto x0 più la derivata prima nel punto x0 per x meno x0 più la derivata seconda di x0, sempre quindi nel punto fratto 2 per x meno x0 tutto al quadrato, più f ennesima nel punto x0 tutto fratto n fattoriale per x meno x0 alla n. Utilizzando tale formula il polinomio che uscirà sarà proprio tx uguale a f nel punto 1, quindi la funzione nel punto 1, più la derivata prima nel punto 1 per x meno 1 più la derivata seconda, sempre nel punto 1 tutto fratto 2, per x meno 1 tutto al quadrato. Io ogni singolo termine l'avevo già trovato perché f di 1 nel punto 1 era proprio ln di 4. più la derivata prima nel punto 1 era 1 quarto, più la derivata seconda nel punto 1 era meno 1 fratto 16, quindi meno 1 fratto 16 per 1 mezzo per x meno 1 tutto al quadrato, ovvero il risultato proprio finale di tale sviluppo di Taylor sarà ln di 4 più un quarto x meno 1 meno 1 fratto 32 per x meno 1 tutto al quadrato, quindi questo sarà il risultato finale. In questo caso l'esercizio richiedeva esclusivamente il polinomio di Taylor e non lo sviluppo, quindi parlando di polinomio non richiederà il resto, cosa che invece prima avevamo messo perché l'esercizio di prima richiedeva proprio lo sviluppo di Taylor, quindi abbiamo visto nel primo esercizio sviluppo di Taylor, invece in quest'altro dovevamo cercare semplicemente il polinomio di Taylor. Bene, io spero che sia tutto chiaro, se avete qualche dubbio scrivetelo pure nei commenti, se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo in modo tale da rimanere sempre aggiornati quando usciranno nuovi argomenti. Noi poi ci vediamo in un altro video. Ciao!